Caro Germanone, lascio a te la parola perché abbiamo intanto un paio di bei PDF da leggere, poi c'è anche un video da mandare e tante altre piccole informazioni. Cos'è successo? Cosa hai scoperto? Il nostro caro amico Anima, cioè non riesce a stare un mese tranquillo, sto povero Anima. Allora, noi, mi sono arrivati a diverse segnalazioni, devo dire, da diverse persone di questo progetto, lui così lo ha definito, insomma anche noi ci siamo sentiti oggi con Sascha, noi siamo in contatto appunto dai tempi del Sabagate, come sapete, e lui mi ha scritto, scuso, ho visto la storia, cosa farete stasera, io gli ho detto, infatti Sommi ha anche detto che lui poi entrerà. Quindi io ho un po' spiegato che cosa succede e perché siamo qui stasera. Perché, come dicevo, mi sono dato diverse segnalazioni di, come dire, questo progetto un po' particolare, lo voglio definirlo così, in maniera molto delicata, un po' particolare, di investimento automatico, tramite copy trading, dove fanno tutto loro, tu non devi fare, anzi loro proprio nel PDF che condivideremo, ti consigliamo di affidarti al nostro sistema. Ecco, tips, questa roba non la può fare neanche uno che è iscritto all'albo nazionale dei consulenti finanziari, dovresti essere una SIM, che non è quella telefonica, è un vettore di investimento, per poter fare questo tipo di operazioni qui, ok? E l'altra cosa strana, poi condivideremo anche il messaggio di un collaboratore, di uno dei ragazzi del progetto, così Sascha me lo ha definito, che mi ha fatto triggerare a morte, mi ha fatto incazzare da morire. Infatti io ho mandato un altro, lui mi ha detto, ah Germano, calmati, io ho detto, sì, sì, figurati, io poi mi calmo dopo, ma quando uno che non sa un cazzo, che non sa di cosa sta parlando, si atteggia il professore e fa il classico giuccio e presultuoso, ragazzi io mi incazzo con un animale, perché è una roba che proprio non riesco a tollerà. E il broker sul quale loro, diciamo, consigliano, in realtà ti obbligano, gentilmente ad aprire un conto con tanto di guida, si chiama Vantage. Che cos'è questo broker Vantage? E perché è assurdo... Vantage, ma che è francese? No, è australiano, cioè il broker è abilitato per operare in Australia, ma attenzione, in Italia è illegale. In Italia... No! Ma questa è una cosa gravissima. È una cosa gravissima. Ma quindi tu gli stai dando del criminale indirettamente? No, no, no. Il criminale no, è un illecito insomma. Esatto, non voglio assolutamente dare del criminale al povero Sascha, però dico che sta promuovendo con i suoi amici, con i suoi collaboratori, una piattaforma broker... Allora, la prima cosa dobbiamo dire una roba, che c'è un conflitto di interessi, perché loro prendono le commissioni dal broker. Davide, poi quando puoi fai vedere quella schermata che ti ho mandato dove dicono che più persone porti sulla piattaforma, più guadagni. Ecco, questa è una cosa un po' curiosa. Più ne porti, più guadagni, già c'è un primo conflitto. Cioè tu mi stai suggerendo una piattaforma che ti fa guadagnare se io mi iscrivo e deposito. Aia! Ok? Punto primo. Punto secondo, questa piattaforma in Italia non è autorizzata dalla Consob a operare, quindi tu non la potresti suggerire, perché non ha le autorizzazioni per raccogliere e gestire investimenti in Italia. E questo è un dato di fatto. Non è che dici, no, aspetta, ma ti spiego, capiamo. No, è così, punto. Il sito addirittura, se fai vedere i documenti che ti ho mandato, c'è una comunicazione della Consob, era stato oscurato dalla Consob. Proprio perché non può operare qui. e io vorrei partire da un... Ma quantum trade perché ha a che fare con la fisica quantistica? Eh, pure AI, perché c'è AI. Allora, allora, allora. Tutti che la usano a casa. Perché quantum suona bene. Allora, leggiamo questo qui. Come collega... Allora, prima dice registrarsi a Vantage, vedi, markets, in tre semplici... Ma lì, leggiamo, faccio solo una piccola premessa, Germanone. Vai, vai. Nonostante la live sia iniziata da un po', però visto che hai citato l'intervento di Anima in privato, questo lo voglio specificare per tutti, eh, non solo per Anima. Allora, Anima ha mandato un messaggio a Germano dicendo ma come, ho visto che fate un gate, ma non potevate scrivermi in privato? Non funziona così. Ripeto, questo lo dico a tutti. Quando noi raccogliamo determinate informazioni con potenziali illeciti, con delle cose, insomma, che riteniamo criticabili, noi le mettiamo insieme, le mettiamo insieme, cerchiamo di fare delle verifiche e poi le portiamo in live. Come è successo? Poi accettiamo assolutamente il diritto di replica. Ma non è che io devo fare telefonate? Questa è una cosa che ritorna nel tempo, questa roba che forse ancora non hanno capito. Non è che io devo fare telefonate ed avvertire guarda, forse sta cosa non la potresti fare, sistemala. Perché poi io adesso non entro in uno specifico, se vuole poi Sascha potrà anche farci condividere la, non la conversazione, il vocale. Però io ho sentito delle cose aberranti in quel vocale e al massimo le avrei sistemate. Oh, ma qua non è che fanno consulenza per sponsorizzazioni di un certo tipo, sei tu che devi fare dei controlli e assicurarti che queste cose vadano fatte bene. E poi ovviamente la solita scusa è ma lo fanno tutti, ma se lo fanno tutti che problema c'è, ma che discorso è? E in ultimo, questo lo devo citare, una chicca meravigliosa, però al Cerbero si parla sempre di queste cose, non si parla mai di tutti i placement che ho rifiutato. Uno, io che cazzo ne so se ne hai rifiutati. Due, ma che vuol dire? Cioè dopo dieci sponsorizzazioni che rifiuti ce n'è una bonus del cazzo? Ma che vuol dire? Cioè questa cosa ha senso dirla, per te, tra l'altro non ha senso che farla dire a noi, ha senso dirla per, non lo so, spiegare la tua linea editoriale come abbiamo fatto noi più volte, ragazzi. Non accettiamo crypto, non facciamo queste cose perché non ci piacciono o perché motivo X. Però non è che poi dici vabbè c'ho il bonus, dai, ho rifiutato dieci sponsorizzazioni del cazzo, c'ho una a omaggio. Quindi questo vale per animo, ma vale per tutti. Bravo. Cosa sacro santa? Siamo a dire pure perché noi siamo i ragazzi del podcast, noi ragazzi del consiglio. Esatto, ma poi non è che nel caso del Germano, che è pure un giornalista, non è che il giornalista fa un'inchiesta e il diretto interessato lo avverte, dice senti, ci sarebbero queste cose a sistemare. Esatto, vedi un po' di rimedià, vedi un po' di rimedià, così. Anche perché poi insomma Anima nel corso del tempo ha dimostrato di fare un betta non proprio ottimale, quindi non è la prima volta. Poi fosse il nostro amico stretto, magari uno fa un passaggio in più, ma il passaggio in più lo facciamo nella ricerca delle informazioni. Per esempio, Germano se lo ricorderà quando era uscita quella roba dei gruppi di Ivan su Telegram, io Ivan lo sento praticamente a giorni alterni, ovvio che è una roba che non mi sarei mai aspettato da Ivan, la prima cosa che ho fatto, ho chiesto a lui, poi abbiamo fatto le verifiche e ci entrava un cazzo Ivan. Però comunque sia, anche in quel caso avremmo fatto, non chiedendo direttamente a Ivan, avremmo fatto comunque delle ricerche. Gli approfondimenti. Questo lo spiego perché deve essere molto chiaro, cioè fate la finita di pretendere questa roba, contattatevi. Al massimo il contatto può essere per la replica e tendiamo a non farlo nella stessa live per questioni di compattezza e anche perché mi dispiace che Anima dovrà entrare alle 10 che da lui sarà tipo l'una di notte, quindi mi dispiace pure per lui. Però poi sappiate che la replica c'è sempre, su questo assolutamente. Comunque andiamo sui PDF, allora... Andiamo sui PDF, il concetto tu lo voglio solo ribadire velocemente, perché in realtà è importante Davide, perché non si ha proprio cultura di cosa sia il giornalismo d'inchiesta, di cosa sia un approfondimento. A me capita sempre, Emma mi potevi chiamare, ma a parte che chi ti conosce, ma poi se io ho una segnalazione che tu hai un sito non a norma ed evadi l'IVA, che cazzo faccio? Ti chiamo e dico, oh Davide, senti, mi hanno detto che evadi l'IVA, senti, vedi un po' di sistemarti così il pezzo non esce. Ma io dico, ma sta gente, ma dove vive? Cioè come fai a dire una roba del genere? Dopo che è uscito il pezzo, io ti do eventualmente diritto di replica. Oppure Davide, ti posso intervistare se voglio una tua opinione su un fatto specifico. E aggiungo anche nell'ipotesi di errore. Ti accusa di averlo molestato, di averlo molestato. Io la sua versione vengo da te e dico, Davide, ma è vero, ci sono queste prove, tu che hai da dire? Allora lì sì. Ma quando ci sono delle cose auto-evidenti, come questi PDF, che ti spiega, vediamo quel primo, quell'altro, quello lì, come ti scrivi a vanta? Cioè la spieghiamo, questi si chiamano introducing brokers, cioè sono le figure, io le chiamo, perdonatemi, non mi riferisco a Sasha, mi riferisco in generale a chi vive saltellando da un broker all'altro. Io le chiamo con un termine francese che mi piace molto, le puttane dei broker. Nel senso che questa è gente che prende commissioni da un broker all'altro, si rispolpano e poi cambiano. Quando, voi già vedete, ecco, Trips, quando voi vedete che qualcuno vi parla di trading, Forex, CFD, qualsiasi roba, ok? E vi dice, allora ragazzi, first step, vi dovete iscrivere a questo broker, battume, subito, merda, sciacquone, due volte lo tirate per sicurezza, ok? Perché c'è già un primo conflitto, dovresti almeno, per onestà, dire, guarda, tu puoi investire dove cazzo ti pare, ok? Queste sono le mie strategie, puoi investire dove cazzo ti pare? questo è un broker col quale io sono affiliato, quindi prendo i soldi, se tu ti iscrivi, io prendo una commissione sia se tu ti iscrivi sia se tu depositi, indipendentemente se tu perdi soldi o meno, il broker mi paga, quindi io già c'è un primo conflitto che ti devo portare là perché io i soldi così e così guadagno, quindi anche quando dicono, ah ma è gratis, il gruppo Telegram, grazie al cazzo, quello serve per portare i stritti. Il procacciamento clienti. Esatto, è proprio quello, cioè quello che fanno gli inflatori, perciò siamo proprio quelli che introducono al broker, ok? Che non è illegale di per sé, però lo dovresti dire e a mio avviso è poco serio. Sì, sì, no ragazzi, che riassunto è l'inizio, sei appena entrato, stai tranquillo, ancora non abbiamo spiegato uno, sul discorso della condotta, il fatto di parlarne poi live e portare, insomma documentazioni, implica anche il fatto che noi possiamo ovviamente sbagliare e in quel caso sarà o sarebbe nostro compito pubblicare una cosiddetta smentita, pubblicare chiaramente lo si fa sulla carta stampata o una live, quindi questo metodo, esatto, questo metodo comprende anche l'eventuale rettifica, quindi esce fuori un documento, X, no, è fasullo, abbiamo preso un granchi, ovviamente dobbiamo fare la live in cui lo spieghiamo, è un po' quello che abbiamo fatto con Sabba, diciamo, in maniera un po' diversa, cioè avevamo portato un personaggio in live, abbiamo approfondito il personaggio e poi abbiamo fatto determinate live, quindi questo deve essere chiaro a tutti, anche perché io detesto quell'atteggiamento che spesso si ha manipolatorio in privato, eh, potevi dirmelo in privato, perché poi subentrano delle dinamiche anche umane, ti vuole far sentire un po' in colpo, un po' la merda, esatto, sono cose che vanno distaccate, cioè un conto è il lavoro, un conto poi è la simpatia che si può provare verso un personaggio in questione, comunque, eh, allora, questi pdf, Germano, abbiamo due bei pdf, vediamo il quantum, quantum trading AI, questo è il quantum, no? Io credo che vada detto a una persona solo se considerata amica, esatto, sì, in quel caso è ovvio, cioè, su Ivan Greco lo sentiamo tutti i giorni, vieni qua, vediamo una cosa strana, la prima cosa che ti viene, Ivan, ma che è sta porcata, non è mia, ok, quindi ovvio che ci parli, però vi dico una cosa estrema, vi dico una cosa estrema, magari so, ma se anche, se anche fosse mio fratello, qualcuno mi dice, guarda abbiamo beccato tuo fratello che spaccia droga fuori alle scuole medie, ok, è una cosa oggettivamente gra, quello è mio fratello, è carne, è sangue il mio sangue, ok, io prima lo chiedo, ma Carlo, ma è vero che spacci droga, nel momento in cui ho la prova, io non posso far altro che attestarlo e prendere distanze da questa cosa e dire ovviamente quello che fa mio fratello è illegale, quindi anche con i fratelli c'è stessa roba, figura dico uno che, voglio dire, non è che siamo amici, è chiaro che io parto con l'inchiesta e poi dopo nel caso tu vieni e chiarisci, comunque andiamo sulla seconda pagina, scusatemi, sulle altre pagine, dove c'è una cosa secondo me molto grave che è proprio il potenziale, ecco qua. Allora, allora, durante questi passaggi puoi contattarci in qualsiasi momento tramite chat su Telegram o Instagram, un membro del nostro team ti risponderà il più rapidamente possibile, ah, poi abbiamo delle chicche quando entrerà Palle Uomo per un'altra cosa che riguarda sempre Anima, ma non questo, non lo specifico, però mi è venuto in mente leggendo Tim, il più rapidamente possibile, dalle 8 del mattino a l'una di notte, 7 su 7, beh, questo è ottimo, disclaimer, questo manuale fornisce istruzioni su come collegarsi a copy trading su quantumtrade.ai e utilizzare la piattaforma VSocial, tuttavia è importante notare che noi siamo un progetto che si concentra esclusivamente sulla formazione e l'istruzione riguardo al copy trading. Non incoraggiamo né promuoviamo alcun tipo di investimento finanziario. Il copy trading comporta rischi finanziari e l'utente è tenuto a valutare attentamente tali rischi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Non forniamo consulenza finanziaria o raccomandazioni specifiche in merito a investimenti. liberlassen di condividere all'imprimizzazione di investimento di poter товario ti vuoi ho big